Mi piace perché ci sono delle belle piste, si imparano le regole, le bandiere e tante altre cose. Mi piace dare la piste perché ci sono state molte leggende della Formula 1, ci sono delle belle curve ed è molto tecnica. Spero di fare un buon risultato, così almeno posso accumulare punti per la classifica. Mi diverte perché ci sono belle esperienze e i kart non sono troppo duri, sono molto belli. Ho imparato le bandiere, le regole e tante cose che non sapevo ancora. Sì, sono passi puliti senza fare troppi contatti. Parlo con i meccanici dell'assetto, dalle gomme, di come va il telaio, di cosa serve. Ciao! 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 Grazie per la visione!